Benvenuti nel mondo degli orologi Oris. Oris è un marchio svizzero di orologi di alta qualità, fondato a Holstein nel 1904. L'azienda è nota per la produzione di orologi meccanici di alta precisione, con un'enfasi particolare sulla qualità dei materiali e sulla sostenibilità ambientale. La gamma di orologi Oris comprende modelli classici e moderni, adatti a ogni esigenza e gusto. Oris è famosa per la sua attenzione ai dettagli e alla precisione dei suoi movimenti meccanici, molti dei quali sono di produzione propria. L'azienda produce sia orologi da uomo che da donna, con una vasta gamma di stili e design che spaziano dal classico al moderno. Tra i modelli più famosi di Oris troviamo il Big Crown, il Divers 65 e l'Aquis. Il Big Crown è un orologio tradizionale da aviatore, caratterizzato dalla corona extra grande che permette di regolare l'ora anche indossando i guanti da volo. Il Divers 65 è un orologio sportivo ispirato ai modelli Oris degli anni 60, mentre l'Aquis è un orologio da subacqueo dotato di una cassa in acciaio inossidabile e una resistenza all'acqua fino a 300 metri. Oris ha una forte attenzione per la sostenibilità ambientale, infatti l'azienda ha lanciato nel 2018 una collezione di orologi realizzati con materiali riciclati, chiamata Ocean Trilogy. Inoltre, Oris collabora con diverse organizzazioni per la protezione dell'ambiente marino, come la Reef Restoration Foundation e la Pacific Garbage Screening. Se stai cercando un orologio di alta qualità e dall'ottimo design, Oris è sicuramente un marchio da considerare. Inoltre, Oris è un marchio che si presta bene al collezionismo, grazie alla sua storia secolare e alla produzione di orologi di alta qualità. La produzione di orologi meccanici di alta precisione è il punto di forza del marchio Oris. Infatti, molti dei movimenti meccanici presenti negli orologi Oris sono prodotti in proprio, garantendo la massima qualità e precisione. Grazie a questa attenzione alla qualità dei materiali e alla precisione, gli orologi Oris sono considerati dei veri e propri capolavori dell'orologeria svizzera. Un'altra caratteristica distintiva degli orologi Oris è la loro versatilità, che li rende adatti a ogni tipo di occasione e outfit. Infatti, la gamma di stili e design proposti dall'azienda spazia dal classico al moderno, con orologi adatti sia agli amanti del vintage che a quelli del minimalismo. Grazie a tutti.